Anche quest'anno nella manifestazione 2019 sarà presente Italy, tramite Italy Educational, che collabora da un paio d'anni con l'Associazione Piatella Cannabesana di Cortereggio. Sarà presente grazie ad un progetto a cui abbiamo aderito, che si chiama Be the Future, un progetto di salvaguardia e tutela delle api, soprattutto nei territori di monocultura. Saranno presenti con dei giochi per bambini per far capire quanto è importante la salvaguardia anche delle api nel rispetto nostro e del nostro prossimo futuro per tutte le coltivazioni che ci sono ovunque. Quindi il 11 pomeriggio ci sarà proprio questo gioco, il Memory Gigante, che sarà presentato appunto da Italy, a cui tutti i bimbi possono partecipare e dove si entra proprio nel vivo del tema, per far capire come funziona il lavoro delle api, il lavoro silenzioso delle api, ma che è importantissimo. Vi aspettiamo tutti a San Giorgio Canavese, l'11 e il 12 maggio, il Mercato della Terra e della Biodiversità, indigena, autoctoni, in via di espansione. Grazie. 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 Grazie.